L'organizzazione della completa asfaltatura del tratto e dell'illuminazione di accesso ai poggi. Quando abbiamo presentato il programma amministrativo abbiamo posto un punto significativo secondo noi, anche se molto spesso sottovalutato, abbiamo detto esportatori di bellezza. Ecco, credo che questo momento debba essere sottolineato proprio questo, il fatto che il nostro territorio ha una vocazione alla bellezza. Qualcuno ha detto che la forza costringe, la bellezza attrae. E infatti avrei piacere poi se con voi e chi non c'è stato particolarmente, gli abitanti dei poggi indubbiamente conoscono bene la loro situazione, per avere l'occasione di percorrere la strada in maniera agevole perché apre a un orizzonte bellissimo. Ecco, credo che il Trinale delle Balze adesso e tutto il territorio in cui le molteplici famiglie che abitano qua su vivono possa dire di avere adesso un accesso estremamente significativo. Grazie. Grazie.